ciao sì ho cambiato di nuovo oc per la millesima volta però questi dai sono dettagli godetevi questo video perché è la prima volta che in questo canale io faccio sentire la mia voce quindi niente cioè non la farò forse più sentire e niente spero che non vi arrabbiate con me come dovreste fare perché io cambio sempre occhi però non importa e niente addio